Saranno 40 i comuni in cui i cittadini dovranno eleggere il nuovo sindaco e la giunta comunale. Tra i comuni capofila del comprensorio cilentano di particolare interesse c'è Vallo della Lucania. A tal proposito abbiamo avuto ai nostri microfoni Simone Valiante, componente dell'Assemblea Nazionale dell'EPD, a cui abbiamo chiesto notizie su una sua eventuale candidatura ed inoltre delegitazioni inerente ad una sua risposta pubblicata sul proprio profilo Facebook e diretta al sindaco Tony Aloia in seguito ad una dichiarazione di quest'ultimo in un'intervista televisiva dove ha espresso un giudizio sul suo operato in merito al suo impegno fatto in passato per l'ospedale, per il tribunale e per la metanizzazione e per il benessere della cittadina vallese. Io ho avuto sollecitazioni, ho scambio opinioni e riflessioni con tanti amici nella città perché siamo tutti preoccupati del futuro di questa città e del futuro del territorio che a nostro avviso non può prescindere da quello che accade al Vallo della Lucania ma questo è il mio campo di interessamento. Io voglio dare una mano se ci sono le condizioni a costruire un progetto nuovo, forte dove c'è gente motivata che ha voglia di lavorare per la città che si guarda intorno e si interroga anche sulla difficoltà che questa città sta vivendo quindi questa è la prospettiva, il campo di gioco che mi sono dato senza farlo in prima persona ma dando una mano ad una squadra di donne e di uomini che vogliono impegnarsi seriamente per quello che dovrà accadere nei prossimi anni a Vallo è su questo territorio, quindi questo è il lavoro che proverò a fare dando il mio contributo e vediamo insomma tutto qui. Sì, diciamo la reazione del sindaco è scaturita da una mia intervista nella quale io ponevo alcune questioni, tra l'altro io non avevo espresso giudizi ma avevo espresso delle preoccupazioni dicendo che la situazione di Vallo è nota da tempo è molto precedente alla pandemia, basta vedere, fare una chiacchierata con i commercianti fare un'indagine sul tessuto economico e sociale di questa città si capisce che questa è una città in affanno ormai da un po' di anni quindi la mia valutazione era senza esprimere giudizi sull'operato di precedente amministrazione di un'amministrazione come la sua che sono scadenze era quello di dire se bisogna ripartire da capo e segnare un punto di chiusura e da un punto di ripartenza credo che sia necessaria una riflessione seria di quello che è accaduto o non è accaduto in questi anni e capire quale può essere il progetto nuovo per la città tutto qui, evidentemente il sindaco si è sentito toccato nelle sue responsabilità oppure è una persona che non accetta contraddittorio, non accetta confronto sta anche un po' nel suo carattere questa cosa, non è che lo conosco da oggi Tore però mi dispiace perché credo che chi sta in politica debba avere l'umiltà del confronto e soprattutto debba avere l'umiltà dell'autocritica interrogarsi su quello che non ha funzionato o che non è stato fatto quindi questa è la base di una discussione seria poi mi sono permesso non tanto di replicare ma di ricordare alcuni fatti visto che mi era stato chiesto io che cosa avevo mai fatto per questa città citando alcuni temi, l'ospedale, la metanizzazione ho ricordato fatti che sono fatti storici comprovati da atti anche parlamentari per esempio il tema della metanizzazione il sindaco non sapeva che la metanizzazione del Cilento si realizza perché un parlamentare dell'epoca è sottoscritto insieme ad altri colleghi Sabrina Capozzolo, Tine Annuzzi e Nino Marotta riuscirono a tenere il punto su un emendamento che diede la possibilità con la finanziaria del governo Letta nel 2014 diede la possibilità di stanziare i 20 milioni di euro del Ministero dello Sviluppo Economico che sono stati ovviamente necessari per far partire la metanizzazione su questo territorio parliamo di quello che accade in questa città del fatto che i commercianti giustamente lamentano il fatto che la città non ha più un flusso di persone tali che tiene in piedi l'economia sono accadute tante cose in questi anni certamente sul versante dei servizi ma sono accadute anche altre cose questa era una città che realizzava eventi importanti la Borsa Verde del Turismo Rurale le tante fiere che si facevano al Polo Fieristico le Notti Bianche che abbiamo realizzato dal punto di vista degli spettacoli che hanno portato decine di migliaia di persone in un periodo autunnale in questa città che non si hanno mai viste in quegli anni ci sforzavamo di fare delle cose credo che non sono certamente solo frutto del mio lavoro ma penso che il mio lavoro alla provincia che ha realizzato queste cose come altre cose per questa città era ben visibile ho ricordato un'opera importante che non so che fine ha fatto un'amministrazione Sansone mi pare aveva progettato una nuova variante per Vallo della Lucani ci fu l'occasione nei primi anni del 2000 allora l'assessore Franco Affieri in provincia di programmare una serie di opere per il nostro territorio ovviamente mi impegnai che il primo lotto di quell'opera venisse inserito ora io non è che non mi ero permesso di stabilire io quale poteva essere un'opera strategica per la città io avevo chiesto all'epoca all'amministrazione di Vallo e mi era stata indicata quella come un'opera strategica per il futuro della città quindi addirittura qui i soldi si sono restituiti non sono state spese quindi una condizione di riflessione visto che è stato sollecitato il mio impegno queste sono alcune delle tante cose fatte da parte mia per questa città poi appunto ci sono le cose non fatte da altri e c'è soprattutto che è l'elemento su quale io mi permetto di insistere perché ripeto io rispetto molto il lavoro della sua amministrazione perché chi lavora negli enti locali fa un certo tipo di lavoro ci mette dell'impegno perché il lavoro di tutti va rispettato quindi senza distinzione però la mia valutazione è diversa vogliamo fare insieme una valutazione critica di che cosa non è accaduto invece in questa città di qual è la prospettiva di qual è il progetto di qual è il futuro che noi immaginiamo non tanto per noi ma soprattutto per i nostri figli e qui come lei avrà notato c'è stata anche una chiusura netta di chi immagina che questi anni Vallo fosse vissuta in un'idea di prosperità che probabilmente altri non riescono a intravedere quindi questa non era tanto la polemica ma era più che altro il dibattito che si è creato col sindaco almeno credo una cosa positiva l'ho fatta visto che difficilmente si riesce ad avere un confronto critico con lui abbiamo sollevato le questioni quindi credo che abbia avuto anche delle risposte rispetto alle cose che lui non ricordava evidentemente